L'Aquila Rugby Club stecca la prima partita casalinga del campionato di rugby eccellenza. Al Tommaso Fattori, il Petrarca Padova si impone per 39-10, ottenendo il punto di bonus in classifica. Pronti via e l'Aquila va a segno con un piazzato di Mezeu da centrocampo, ma per la prima mezz'ora di gioco i padroni di casa si fermano qui. Complice una difesa neroverde precaria, il Petrarca realizza 4 mete in 20 minuti. L'ottimo lavoro della mediana Sua Nicora è premiato dalle mete di Menniti, Polito, Nostran, Trotta e di nuovo Nostran. L'attacco dei Petrarchini si rivela essere implacabile e neroverdi stentano ad arginare gli ospiti. Alla mezz'ora la partita sembra prendere una piega diversa. L'Aquila trova nella propria mischia un discreto punto di forza, mettendo in seria difficoltà il Petrarca. In 5 minuti i padovani commettono 9 falli in mischia chiusa all'altezza dei propri 5 metri, rimediando due cartellini gialli. In superiorità numerica i neroverdi riescono a marcare meta con Matoccia, concludendo il primo tempo sul 10-24. Nel secondo tempo viene fuori di nuovo il Petrarca, che in inferiorità numerica riesce ad allungare con un piazzato di Fedalti e una meta del neo entrato Luigi Ferraro. La partita perde ritmo e vivacità. Il Petrarca assegna ancora una meta, questa volta tecnica, assegnata dal signor Mecone di Roma. Al fischio finale il punteggio è di 10-39.